Si sono conclusi da pochi secondi le partite della 37esima giornata di Serie A Ci sono state pochissime sorprese Il posto è la sorpresa più diciamo La sorpresa è stata il pareggio del Crotone con la Lazio 2 a 2 Crotone che si è inguagliato con questo pareggio Doveva vincere al 100% Comunque l'avverso era passata a Napoli Speriamo che il Crotone batta in Napoli E le altre perdono punti Voglio vedere la squadra calabrese si salva Perché è del sud e voglio che si salva Comunque l'avverso 2 a 2 tra Crotone e Lazio Poi la vittoria fondamentale del Chiego 2 a 1 Sul Bologna Un bellissimo gol d'inglese Vittoria stra-importantissima del Cagliari sulla Fiorentina Poi il Torino non so ha battuto lo Spal 2 a 1 Non cercava niente Batte lo Spal 2 a 1 Non guai Comunque è la zona della Champions League Ancora tutto da vedere Lazio domenica contro l'Inter Ha due risultati su 3 Un pari o una vittoria Per andare a quarto corso Almeno per l'ultima giornata Ci dobbiamo godere L'ultima squadra E' la qual'ultima che entra in Champions League Ah e ancora non è finita Perché c'è ancora Due partite da giocare Atalanta-Milan Il Big E ha tre partite Atalanta-Milan Roma-Juventus E poi Sampdoria-Napoli Stasera ci basò solo un punto Speriamo di vincere Dai Speriamo Dai Alla prossima Malonna-Domenica E ancora a tutti Ciao